Sia gli interventi negli ospedali, non all'autonomia differenziata e alla privatizzazione della sanità pubblica, ad affermarlo, e il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, che nella tarda mattinata di ieri, dalla pista dell'elisoccorso dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale Spocchi di Polistena, ha richiamato alla mobilitazione e alla lotta a difesa del diritto alla salute e per chiedere una riqualificazione completa del Santa Maria degli Ungheresi. A proposito dell'investimento pubblico a carico dell'Inael per il momento, solo sulla carta, programmato per un totale di lavori para 35 milioni di euro, il primo cittadino polistenese ne chiede la certezza e lo sblocco per il rifacimento totale dell'ospedale. Ma il sindaco Tripodi chiede anche una programmazione per nuove assunzioni di personale nei reparti, oltre all'avvio della prevista digitalizzazione tecnologica del nosocomio, investendo i fondi già messi a disposizione dall'ASP. Per l'ospedale Spocchi di Polistena, il sindaco Tripodi chiede il potenziamento immediato, un presidio da 30 mila accessi al pronto soccorso all'anno, che nonostante l'impegno costante dei medici cubani e dei colleghi calabresi, ha bisogno di nuove assunzioni e di nuove strumentazioni e tecnologie. Quindi da Polistena vengono richiesti investimenti maggiori e concreti per il potenziamento del Santa Maria degli Ungheresi.